Abbiamo visto il vento reale. Il vento reale è la risultante tra il vento apparente e quello di velocità. Assistente. Posso? È la festa di fine estate del paese. Bello, no? Sì. Sara. Ma tu che ci vai qua? Secondo te? Dai, chiudi gli occhi. Immagina, si è la pò di partenza. Ma devi dirglielo. Sto così bene con lui. Non voglio perderlo. Ancora un attimo e poi... BOOM! Si è fatto male? No, non è niente. È solo una storta. Dovevo dirtelo subito. A 13 anni un giorno ho iniziato a sbandare mentre camminavo. Mia madre pensava che fossi ubriaca. E invece poi... Abbiamo scoperto il perché. È la prima volta che mi piace qualcuno veramente. Sara non può fare una vita normale. È chiaro o no adesso? Ho paura. E chi è che non ce l'avrebbe? Io non volevo che stessi con me solo per pietà. Ormai è troppo tardi. Guardami. Voglio stare con te. Lui è l'amore. Il mio primo amore. E voglio ricordarlo quando sarà tutto più difficile. E' l'amore. Grazie a tutti